Il coordinamento nazionale antimafia e riferimenti decide di allargare il suo impegno civile, con un'iniziativa volta alla creazione di un'area denominata per l'altra politica. Ha accettato di apportare un suo contributo al nascente laboratorio anche Angela Napoli, ex componente della commissione parlamentare antimafia. L'obiettivo primario è quello di dare nuova linfa alle istituzioni e di riavvicinare alla politica la gente comune, che in più occasioni ha manifestato, soprattutto attraverso l'assenzione dalle urne, la disillusione e la scarsa fiducia nei confronti della classe dirigente. L'area sarà composta sia da scritte partiti politici sia da soggetti indipendenti, assumendo il ruolo di laboratorio di idee e proposte, finalizzato alla costruzione di una nuova etica della politica. A spiegarlo è la stessa Adriana Musella, presidente del coordinamento nazionale antimafia e riferimenti. È necessario unirci. Questa iniziativa nasce proprio da questa comune esigenza che ha la società civile, quindi la gente di pulizia, ma che ha anche la classe politica al suo interno, perché non tutta la politica è in marcia. La politica non può essere una cosa negativa, così come è diventata e così come è pensata da tanti.